Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare di Zumub che è uno dei più grandi rivenditori online in Europa ma anche un produttore indipendente di integratori di alta qualità Allora io vi faccio vedere che cosa mi è arrivato da parte di Zumub Allora qui abbiamo questa canotta bianca, traspirante, leggerissima Ci sono diverse taglie, poi qui abbiamo questi snack alla banana Poi qui abbiamo una corda per saltare Qui abbiamo una farina d'avena aromatizzata al cioccolato Quindi per fare anche i pancake, le crepe a colazione Ovviamente qui troviamo tutti i valori nutrizionali tra cui anche proteine, fibre Cioè tutti i principi che comunque aiutano per una corretta alimentazione Poi qui abbiamo i famosi piocchi d'avena che uso nel mio porridge Poi qui abbiamo la farina di cocco Qui ci sono le racchette per giocare spiaggia Qui abbiamo il pop socket che serve per attaccare il telefono Poi qui abbiamo la custodia impermeabile Da parte sempre con la marca Zumub Qui abbiamo il leccetto Qui abbiamo un integratore al gusto di tela pesca Quindi è bello rinfrescante Senza zuccheri Poi qui abbiamo degli snack al cioccolato bianco Sono comunque con dei cereali misti, fiocchi d'avena E niente, questo è tutto Volevo ringraziare appunto l'azienda Zumub Vi lascio qui sotto il mio codice sconto mani in pasta Dove potete comunque comprare una serie di cose sul loro sito Zumub.it E niente, grazie ancora a Zumub E niente, grazie ancora a Zumub